Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Parliamo quest'oggi di mountain bike ed ho il piacere di presentarvi il re della pedalida. Certamente gli appassionati di mountain bike avranno sicuramente capito che sto parlando di Marzio Deo. Ciao Marzio, buonasera. Buonasera a tutti. È un grosso piacere rivederti a Livigno dopo tanti anni. Probabilmente io personalmente non ti vedo dalle tue vittorie delle pedalede, tu sicuramente a Livigno ci sarai sicuramente ancora venuto, ma quei ricordi lì rimarranno indelebili credo. Esatto, sì, è sempre un piacere soprattutto venire a Livigno. Praticamente sono oltre 20 anni che vengo, tutte le stati e adesso negli ultimi anni manca un po' questa classica della mountain bike come era la pedaleda perché era proprio, si può dire che era proprio una classica e manca appunto nel calendario nazionale che sarebbe stato importante che ci fosse ancora. Purtroppo adesso non so, motivi vostri di Livigno così ha terminato, cioè non l'hanno più organizzata e comunque vabbè noi biker siamo sempre presenti a Livigno soprattutto per gli allenamenti estivi e la preparazione in altura. Quattro vittorie riceve un'apertura alla pedaleda di cui una edizione è stata anche prova di campionato italiano marathon. Sì, quattro vittorie consecutive, diversi secondi posti tra cui appunto anche quando è stata campionato italiano marathon nel 2004. Vinto forse da Massimo De Bertolis. Qual è delle quattro vittorie quella che ti è rimasta più nel cuore? Ma è sempre stata una grande emozione soprattutto perché in quegli anni l'arrivo della pedaleda era nel centro di Livigno ed era uno spettacolo. L'ultimo chilometro tra due ali di folla è sempre stato bellissimo tagliare il traguardo davanti a tutti. Marzio, accennavamo un attimo fa a microfoni spenti, insomma della tua lunghissima carriera. Sei in classe 1968 quindi sei probabilmente il decano di questa specialità ma che ti vede ancora a primeggiare, salire ancora molte volte sul podio e un mondo marathon che ti sia aperto dopo una carriera nel cross country puro. Sì, ormai sono il decano, gli atleti che competono con me, gli atleti elitici che competono con me ormai hanno vent'anni in meno, comunque sono ancora abbastanza competitivo, cioè perlomeno cerco di dire la mia in tutte le gare a cui partecipo. Ovviamente non è più facile primeggiare, comunque io do sempre il massimo perché la passione sta alla base di tutto e lì riesco a dare il massimo di me in tutte le competizioni a cui partecipo. Ci racconti un po' la tua vita da atleta, come ti sei approcciato alle due ruote e la tua carriera? Mi sono avvicinato praticamente dal 1990 che pratico questa disciplina, era agli albori e soprattutto per passione tramite amici. I primi due anni erano un po' così di transizione, non si sapeva bene come era a livello agonistico, poi da quando abbiamo cominciato a prendersi la mano si può dire è stata più o meno una professione per questi oltre vent'anni di attività. Da prima era solo praticamente cross country e poi si è trasformato anche nel mondo marathon per te? Sì, soprattutto nei primi anni era più incentrata nel cross country, le marathon non esistevano, ce n'era qualcuna, però i cross country erano molto differenti dagli attuali cross country che si svolgono ora, attualmente i cross country di livello internazionale così si svolgono su 6, 7, 8 giri in base alla tipologia dei percorsi, circuiti corti di 3, 4 chilometri al massimo, mentre una volta i cross country erano differenti, si svolgevano su 3 giri anche lunghi di 15, 18 chilometri per cui si avvicinavano di più a una gran fondo, c'erano salite con dislivelli importanti, mentre adesso è una specialità molto più tecnica e specialistica, bisogna proprio specializzarsi su questo tipo di manifestazioni. Qualche volta ti capita ancora, presumo, di avvicinarti al cross country, però le difficoltà non saranno poche appunto per la tecnicità della disciplina? Sì, adesso proprio nelle ultime 2-3 stagioni praticamente di cross country non ne ho più fatti perché mi sono anche io specializzato sulle maratone e sulle gran fondo e i cross country essendo molto esplosivi vanno bene soprattutto per i giovani e non sono più adatti alle mie caratteristiche, perlomeno a competere ad alti livelli elite. E niente, sì, ci vuole una preparazione molto tecnica, adesso molti percorsi sono molto costruiti, passaggi artificiali e tutto per rendere più spettacolare anche al pubblico e anche alle riprese televisive. Mi ricordo comunque in una gara di qualche anno fa hai avuto l'onore di battere un certo Julien Absalon, l'attuale forse campione del mondo, ancora il numero 1, ma grado, sebbene diciamo i suoi anni vicino alla quarantina, hai avuto il piacere di battere una gara di cross country, quindi insomma la dice lunga sul tuo talento. Sì, forse quella è stata la mia più grande soddisfazione, anzi sicuramente è stata la mia più grande soddisfazione per quel che riguarda cross country, una vittoria inaspettata agli internazionali d'Italia a Brescia. In quegli anni Absalon era il numero 1 in assoluto, vincitore di due Olimpiadi e cinque campionati del mondo elite e lì era il massimo della carriera e ho avuto la soddisfazione di riuscire a batterlo tra l'altro allo sprint, emozionando tutto il pubblico presente. Marcia è un palmarès veramente di tutto rispetto, dieci presenze ai campionati del mondo e sei a quelli europei, sempre marathon? No, ho partecipato anche a due o tre campionati del mondo nel cross country e anche a due campionati europei per il cross country. Hai ottenuto dei buoni piazzamenti? Sì, i migliori piazzamenti li ho ottenuti nelle marathon con due sesti posti con la possibilità in entrambe le occasioni del podio che mi è sfuggito per poco. Stiamo parlando di marathon in gran fondo, c'è differenza tra le due discipline? Più che altro è per il chilometraggio, le marathon vere e proprie si intendono sopra i 60 chilometri, mentre le gran fondo sono dai 40 ai 60 chilometri come chilometraggio. E i dislivelli fanno la differenza tra le due? I dislivelli, questo in base alla tipologia del percorso, dove si svolge la gara, però il dislivello non influisce, dipende proprio dall'organizzazione e dove si trova la gara. 10 mondiali, 10 volte e più con la maglia azzurra, una bella soddisfazione, sempre delle grandi emozioni. C'è un mondiale che ricordi con più affetto? Sicuramente vestire la maglia azzurra è la massima ambizione di ogni atleta e anche per me è stato motivo di orgoglio. Penso il primo mondiale marathon a Lugano, credo che sia stato quello che ricordo con più piacere. Io ho avuto l'onore di arrivare anche sesto vicinissimo al podio che mi ha sfuggito per pochi secondi, però sempre una grandissima emozione vestire la maglia azzurra. Quando è stata la tua ultima gara? La mia ultima gara, calcolando che sono 10 giorni che sono all'ivigno in ritiro, è stata all'inizio di agosto, comunque pochi giorni fa si può dire. Ti abbiamo visto recentemente anche al Gran Fondo Alta Valtellina, una bella gara, cosa ne pensi? Una bellissima gara che piace a tutti gli appassionati perché i percorsi sono davvero spettacolari in zone dove la possibilità di andare in mountain bike c'è per tutti, a tutti i livelli, è un percorso vario, pedalabile, tecnico al punto giusto e una gara anche a detta di tutti che piace. Marcio, tu sei atleta professionista? Sono stato sempre semiprofessionista per la scelta mia, anche se tutti mi reputano prof, ho sempre lavorato part time, come ho detto per mia scelta la possibilità di allenarmi l'ho sempre avuta, ho sempre avuto la possibilità di andare a fare corse a tappe, ritiri vari e tutto, però per mia scelta appunto ho sempre lavorato mezza giornata, l'ho sempre dedicata al lavoro, tra l'altro in un'azienda che mi permetteva anche di essere libero, un'azienda del settore, la PMP Bike e niente, e poi il resto della giornata la dedicavo agli allenamenti negli ultimi oltre 15 anni per la ciclo Olimpia. Hai avuto modo di calcolare in un anno quanti chilometri svolgi? Ma bene o male, tra la mountain bike e la bici da strada, mediamente intorno ai 20.000 chilometri. Come un'atleta, anzi oltre un'atleta professionista, diciamocela tutta insomma. Sicuramente, sì, è questo che ci vuole perché ci vuole una grande preparazione, una grande base di preparazione per cui i chilometri sono importanti. Ti cimenti anche su strada, calcolando che avresti più il fisico da stradista che non da biker, delle ruote grasse? Sì, questo me l'hanno detto parecchi amici professionisti, direttori sportivi di squadre professionisti che me l'hanno sempre detto. Purtroppo mi sono avvicinato un po' tardi, cioè più che altro un po' tardi, quando l'ho preso dal punto di vista professionale l'attività era un po' tardi per fare il salto sulla strada. Allora sono andato avanti per la mia strada, che è stata la mountain bike, anche se sicuramente la bici da strada mi ha sempre affascinato. Con il senno di poi avresti preferito diventare uno stradista? Quello non so dirlo. La mountain bike credo che sia uno sport più bello, più contatto con la natura, più divertente rispetto alla strada che è proprio molto più professionistica la cosa. Quello non saprei proprio dirlo, comunque mi avrebbe fatto piacere provare anche lì, però negli anni giusti, con l'età giusta. Tra i vari personaggi che sono passati dal mondo della mountain bike alla strada, ricordiamo Peter Sagan in primis, così come Cade Levans e anche una Dario Cioni. Mentre c'è stata un'inversione di marcia, ricordiamo Luca Paolini, che dalla strada è passato invece alla mountain bike. Quali sono le caratteristiche principali che differenziano le geospecialità? Tra l'altro sono parecchi gli stradisti che passano alla mountain bike. Ricordiamo anche il direttore tecnico della Nazionale Italiana, Mirko Celestino, che è stato un grandissimo atleta sulla strada, è passato alla mountain bike. Tra l'altro ho avuto il piacere di correre in coppia alla Transalp e abbiamo vinto appunto anche la tappa che si concludeva a Livigno, la School Livigno nel 2010. Assolutamente. Le differenze, la preparazione è abbastanza simile, anche se la mountain bike ci vuole anche la parte tecnica. Per cui uno stradista che vuole passare alla mountain bike deve specializzarsi più sul tecnico, mentre viceversa bisogna allenarsi un pochettino più sul fondo, sui chilometri, perché le gare su strada ovviamente sono molto più lunghe, molte più ore in bicicletta. Penso comunque che sia più facile passare dalla mountain bike alla strada che viceversa. Sicuramente i biker hanno un grande motore, hanno un grande motore, hanno grande voglia di fare sacrifici perché nella mountain bike i risultati non arrivano facili, bisogna costruirseli, per cui con la determinazione che hanno i biker arrivano alla strada con più voglia di fare e mettersi in gioco per dimostrare quello che valgono. Penso anche che la tecnicità che ci vuole in una discesa di mountain bike rispetto alla strada faccia la differenza perché uno stradista si troverà veramente in difficoltà nei sentierini della mountain bike. Ci vuole tempo, ci sono tantissimi stradisti che vanno forti in discesa con le ruote strette e anche loro ovviamente se vengono qua non possono subito essere dei fuori classe nel tecnico, devono cimentarsi, allenarsi e come facciamo noi. Assolutamente. Marzio, una specialità che ti ha permesso di girare il mondo è questa, non è cosa da poco. Sì, infatti ho sempre, tra l'altro oltre alla bicicletta la mia passione sono anche i viaggi per cui ho unito le due cose, soprattutto organizzandomi anche da me parecchie corse in giro per il mondo, sia a tappe che grandi classiche, un po' in tutti i continenti. Anche corse estreme però. Anche corse estreme perché sono un po' anche estremista io, visto che oltre alla bicicletta pratico anche lo sci alpinismo, la montagna, così mi piace un po' tutto quello che è l'outdoor. Ho sempre cercato anche corse un po' difficili, un po' fuori dai normali cani, in giro per il mondo, come in Mongolia, come in Himalaya. Mi sono inventato anche un record partendo dal livello del mare, arrivando a una montagna di 5.600 metri non stop. In quale continente? Questa in Messico, siamo partiti da Veracruz nel Golfo del Messico e sono arrivato in vetta alla montagna più alta dell'America centrale in 13 ore e 20 minuti, con oltre 200 chilometri e più di 7.000 metri di slivello. Complimenti. In queste gare a tappe un po' estreme ti è mai capitato qualcosa di memorabile o qualcosa di pericoloso? Fortunatamente no, ho sempre avuto la fortuna che tutto è filato liscio. Ovviamente certe volte mi hanno messo a dura prova, ho dovuto impegnarmi più del solito per concludere le varie tappe, però non ho mai avuto problemi, disguidi o cose particolari. Hai mai avuto infortuni nella tua carriera? Sì, qualche infortunio, ma di lieve entità, qualche caduta ovviamente a tutti i biker capita, però ho sempre piccoli infortuni che non mi hanno condizionato l'attività e nel giro di massimo due settimane ero già pronto per la competizione successiva. Beh, è una bella fortuna perché è una carriera così lunga. Che cosa stai preparando? Ma adesso niente in particolare, sono qui a Livigno come tutti gli anni per fare le mie due settimane di altura e non è solo altura, è anche un po' di vacanza con gli amici e prepariamo il finale di stagione. Adesso vediamo quale sarà la mia ultima gara della stagione, che come tutti gli anni è oltreoceano. C'ho in serbo un paio di possibilità, andare in bassa California per la Bahia Epic, che sono stato già lo scorso anno, una corsa tappe di quattro giorni, oppure la Kepe Ionir in Sudafrica a metà ottobre. Quando termina dunque una tua stagione sulle ruote grasse e quando ricomincia? La stagione, come tutte le stagioni qua in Italia, si conclude intorno al 10-15 di ottobre. Poi ho sempre qualche corsa, tutti gli anni ho sempre svolto una corsa all'estero, sempre in quel periodo lì, entro la fine di ottobre e lì termina. E l'inizio della stagione vera e propria è agli inizi di marzo. Comunque tra febbraio e marzo, meno male, ci si mette in moto tutti. Nel frattempo, come già accennavi, gare di sci alpinismo, pratichi sempre la bicicletta, fatbike o qualcosa del genere oppure l'abbandoni durante l'inverno? L'inverno la mia grande passione da sempre è stato lo sci, lo sci alpinismo. L'ho sempre praticato già prima della bicicletta, qualche gara la faccio, soprattutto circuiti notturni che ci sono lì da noi, che stanno andando in grande voga negli ultimi anni, che mi servono più che altro d'allenamento e poi qualche bella uscita con gli amici, quella la faccio sempre anche su montagne oltre i 4.000 metri, qua nelle Alpi, mi affascina tantissimo. Oltre allo sci vado un po' a piedi, la bicicletta anche durante l'inverno, anche se fa freddo, non la dimentico, sia la mountain bike che la strada, basta. Tutto qui, la palestra, quella che è indispensabile per potenziarsi e per tenersi anche in forma durante l'inverno. Marzio, hai qualche idolo sportivo? Ma seguendo un po' tutti gli sport, di grandi idoli, ho sempre ammirato nel basket Michael Jordan e nel tennis Roger Federer, poi dei veri idoli non li ho. Mi ammiro i grandi campioni, quello sicuramente. E' tutto, siamo in chiusura, grazie davvero e davvero un grosso in bocca al lupo per una carriera infinita. Grazie a voi, Reppi il lupo. Grazie mille. E' tutto per questa sera, grazie per la cortesia e attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.